Siamo qui con tutto il cast al completo di Come Giochi, infatti mi sento un po' un esaminando insieme a Flavio Ferrari Zumbini, Jackson Genovesi e la bellissima Diletta Leotta e Andrea Dato. Facciamo un attimo una sorta di bilancio di questa prima edizione. Avete esaminato tanti giocatori, com'è il livello attuale degli italiani? Ne abbiamo esaminati veramente tanti, ovviamente ci siamo trovati di fronte cose molto diverse l'una dall'altra ad ogni modo io mi sentirei di dire che il livello è relativamente alto. Qui noi siamo stati spesso un po' cattivelli e tutto sommato abbiamo preteso davvero il massimo dai nostri giocatori e abbiamo sempre cercato di mettere al centro dell'attenzione un punto di interesse e quindi la discussione è andata molto a fondo. In linea di massima passi da gigante, ti ricorderai certamente tre anni fa come gli italiani fossero davvero agli esordi oggi grazie alla nascita del cash game anche noi cominciamo a giocare molto spesso con 100 blinds davanti a giocare le carte nella maniera più appropriata. Spero che questo venga rispecchiato anche dalla trasmissione, sono sicuro che più le edizioni andranno avanti più ci sarà modo di entrare nel dettaglio del gioco e quindi l'apprendimento sarà maggiore sicuramente i concorrenti saranno sempre più preparati. Jackson farà ancora la parte del professore un po' più buono che cerca di salvare le anime? Penso di sì perché comunque mi sento fondamentalmente un buono, quindi comunque mi risulta abbastanza facile. La cosa divertente è stata che tantissime persone mi hanno contattato dicendomi, apprezzavano il programma e tutto ma mi dicevano basta con questo programma che la gente sta imparando veramente a giocare che cominciano a ragionare come per dei veri giocatori e quindi è stata apprezzata anche perché è abbastanza tecnica e penso che sia la prima veramente in cui molti giocatori veri e propri riescano a capire il ragionamento dei professionisti e perché vanno fatte determinate mosse e perché no. Quindi comunque è stata apprezzata molto, almeno dal mio punto di vista. Ma come si può fare per partecipare a questa nuova edizione di Come Giochi? Partecipare a Come Giochi è semplicissimo, è sufficiente giocare sui tavoli dedicati di Glaming.it che si chiamano Come Giochi, sono dei tavoli che partono dai livelli bassi, quindi 015-030 fino al No Limit 100 è sufficiente sedersi ai tavoli e giocare qualche mano con noi e potrete partecipare alla trasmissione. Invece le mani che verranno sottoposte ai giocatori, ai concorrenti quindi, saranno selezionate tra le mani che voi invierete su Facebook. Quindi andate su Facebook, su Glaming e postateci le mani, noi sceglieremo le più interessanti e le sottoporremo ai concorrenti. Mi raccomando iscrivetevi in tanti, questa seconda edizione sarà molto più divertente della prima perché ormai siamo diventati tutti buoni amici, quindi vi consiglio di venirci a conoscere tutti quanti perché ci divertiremo un sacco, soprattutto ragazze venite a conoscere questi bei tre professori, mi raccomando. Grazie. 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 Grazie.